Riccardo, primi giorni a Milanello, come ti trovi nel nostro centro sportivo? Molto bene, è molto grande, c'è molte cose da fare e mi piace molto, c'è tutto qui. Chi è il tuo compagno di stanza se ne hai uno? Io sto solo, duermo solo e sta bene così. Però un po' da traduttore a Cialanoglu lo stai facendo, dal tedesco all'italiano, lo stai aiutando un po'? Sì, necessita di aiuto, io sto aiutando, Montelivo sta aiutando molto, perché non sapeva molto l'italiano, però sapeva l'inglese e l'allemano, stiamo apprendendo per lui, aiutandolo. Qualche gara di punizione l'avete già fatta, perché ci sono tanti giocatori preparati in questo fondamentale, e tu, lo stesso Cialanoglu, insomma, anche Buonaventura l'anno scorso ha segnato. Qualche sfida già fatta? A uno, intriniamo queste cose e sicuro che vabbiamo a intrinare. Io so che possiamo tirare a molti giocatori, possono tirare le asfalti e al fine tira a esse che si sente meglio. Prima amichevole, si torna a casa subito in Svizzera. Perché sono importanti queste amichevoli per voi in questa fase della stagione? È sempre importante giocare partito amistoso, perché stiamo sempre mirando dove stiamo, perché è importante giocare partito. Cosa ne pensi di Mr. Montella? Tanta tattica, più lavoro atletico, cosa state facendo in questi giorni? Tutto, tutto. Tattica, atletico, facciamo molte cose con la pelota, facciamo tutto, di tutto. Corrida, molte cose. Ti piace il suo atteggiamento? È conosciuto come un allenatore molto offensivo. Concordi? Sì, è un allenatore molto buono e stiamo lavorando molto bene e stiamo continuando così, facendo bene. Dopo Lugano, trasferta in Cina, si gioca contro due squadre tedesche che conosci molto bene, il Bayern e il Borussia. Hai qualche consiglio per i tuoi compagni? Io so solo che sono un equipo, i due sono un equipo molto grande, sanno giocare al futbol e va a essere molto difficile giocare contro loro perché sono buoni. Abbiamo di concentrarsi 90 minuti, posso dire questo. Per la prima volta indosserai la maglia numero 68 che per te ha un significato speciale. Sei un po' emozionato? No, sono felice di mettermi in questa camisa e di giocare per questa camisa. E voglio dare tutto per questa camisa e sono felice di giocare.